Questo è il nostro destino. Io e te. La domanda è... Saprai rendere questo momento epico? Io verrò chiamato il grande Dementos. Regno sulle terre desolate! Si può fare... Ti ricordi di me? Chi abbiamo qui? Io sono Furiosa! Io sono Furiosa! Io sono Furiosa! Ora! Ora! Dove se ne vanno? Tanto pieni di speranza! Non c'è speranza! Non c'è speranza!